Risotto con asparagi e limone. In questa stagione, l'arrivo dei primi asparagi freschi ci invita a preparare dei primi piatti saporiti e dal carattere primaverile. Uno dei classici piatti italiani, il risotto, è una preparazione adattissima a questo scopo. Ecco una ricetta gustosa e leggera, un risotto con asparagi e limone, un piatto invitante che si presta a concludere un pasto in compagnia. Gli ingredienti necessari sono 320 g di riso, un mezzo cipolla, un spicchio d'aglio, 500 ml di brodo vegetale, un limone, i 250 g di asparagi, 50 g di parmigiano grattugiato e i due cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe. La preparazione di questo primo piatto è molto semplice. Inizia con il preparare il brodo vegetale a parte, in un pentolino. In una casseruola, prosola la cipolla tritata e l'aglio schiacciato con l'olio extravergine d'oliva. Aggiungi il riso e fai tostare per alcuni minuti. Bagna con il brodo bollente e lascia cuocere a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, pulisci gli asparagi e taglia li a pezzetti. Fai cuocere gli asparagi in padella con un filo d'olio e un pop di acqua. Quando il riso è quasi cotto, aggiungi gli asparagi cotti, una grattugiata di scorza di limone e una spolverata di pepe. Continua la cottura, mescolando spesso. Se necessario, aggiungi abbondante brodo caldo. A cottura ultimata, aggiungi il parmigiano grattugiato e servi il risotto con asparagi e limone ben caldo. Un primo piatto invitante e leggero, un risotto saporito e profumato al limone con asparagi freschi, per iniziare un pasto gustoso in compagnia.